Era così prima, poi piano piano... Forse sei a riprendere... No, no, è il carico il telefono. Le prime nozioni esprimono... Allora, fallo di partire... L'evocazione offensive delle truffe. Se no non era partita, è strano. Però si vedeva. Secondo me non era partita. Però si vedeva, però. No, vedersi si vede perché stavi riprendendo o stavi inquadrando. Quindi non sapremo mai forse che così... Non ho guardato il timer. Se non c'era il tempo, non era partita. Eh, non avevo guardato il timer. Non era successo più. Bastia di nuovo... Due minuti di nuovo. Esplode lo standard. Bastia, passi in vantaggio. Questa è un'altra parte. E' un'altra parte. Oh! Non è questo. E' un'altra parte. E' un'altra parte. Allora... Perché si è appoggiato qua, però se sei tu l'hai, tu sei tu e dai, secondo me era cambio, era cambio qua. Vabbè, cambio? Sì, tu ho troppo toccato il tuo e poi è andato verso il suo. Cambio. Mi sembra di sì, perché cambia il carro un po' traiettore. E' un fondo. Oh, che sono accato! Benissimo il resto, però. Oh, grazie. Oh, grazie. Oh, grazie. 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 Puoi rientrare perché ho toccato un gioco. Grazie. 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 E' la castellata. La castellata. Nel momento migliore del Borussia viene fuori questa castellata. Che veramente non mi viene. E' vero, tu non insegni quasi mai di castellata. la chiesa. Poi esagerare questo. Non si vede la braccia. Ma è un gioco. Non mi disturbare questo. Questa. Allora, vado con questo. 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 Allora, vado con questo.